Un cordiale buongiorno e benvenuto a tutti i nostri telespettatori per questa prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Iniziamo parlando di cronaca, infatti due imprenditori biellesi, padre e figli, proprietari di un'azienda di Magliere di Candelo, sono stati denunciati per banca rotta fraudolente e utilizzo di fatture false dalle fiamme gialle di Biella, i particolari nel prossimo servizio. Due imprenditori biellesi sono stati denunciati per banca rotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito bancario e dimissione e utilizzo di fatture false dalla Guardia di Finanza di Biella. Padre e figlio, entrambi amministratori di una società di Candelo impegnata nel settore della produzione di maglieria, avevano richiesto il fallimento nell'autunno del 2010. Le indagini avviate dopo la dichiarazione di fallimento dell'azienda si sono estese ai rapporti intrattenuti con un'altra impresa, la cui gestione era riconducibile ai due imprenditori. Le fiamme gialle hanno scoperto gravi irregolarità contabili con utilizzo spregiudicato dei rapporti infragruppo caratterizzati dall'emissione e dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dalla presentazione degli istituti di credito di ricevute bancarie e fatture false per lo sconto, al fine di ottenere anticipazioni in debite, nonché di denaro impiegato per il soddisfacimento di esigenze personali. Lo stato di insolvenza dell'azienda, che risale al 2007, è riconducibile alla volontà di nascondere la situazione finanziaria ormai compromessa della ditta. L'importo del debito accertato è di circa 400.000 euro. E continuiamo con la crone che infatti un commerciante di Biella di 42 anni, Massimo Angelino, è stato condannato dal Tribunale di Ivrea a tre anni di reclusioni e 3.000 euro di multa per riciclaggio e ricettazione. Nella sua abitazione di Strambino, i carabinieri avevano trovato carte di circolazione, certificati di proprietà, targhe e bancomat provenienti da furti, senza spiegare perché si trovassero nella sua casa. E iniziamo a parlare di politica. Gli effetti della spending review si fanno sentire a Biella. Il comune di Biella infatti discuterà una mozione sul taglio degli assessori. La proposta, scusate, è quella di passare da 10 a 6 poltrone, incognita sulla tenuta della giunta gentile. Non si placano i mal di pancia all'interno della maggioranza di centrodestra Palazzo Ropa, sede del Consiglio Comunale di Biella. Sul tavolo la mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio del 20 e 21 novembre, presentata dalla Lega Nord su Biella Capoluogo. Voci di Palazzo darebbero la questione già risolta, visto che vi sarebbe un accordo tra i biellesi e i cugini vercellesi sulla spartizione degli uffici amministrativi. Incognita sul voto del PDL, i fracchi intiratori infatti potrebbero essere dietro l'angolo. Altra questione importante che la giunta gentile dovrà poi affrontare è la cosiddetta mozione Toniazzo. Iuri Toniazzo, consigliere futuro Libertà al Comune di Vercelli, ha già depositato nell'ufficio del Comune Risicolo il documento che chiede la riduzione da 10 assessori. La mozione ora è sulla via verso Biella. Toniazzo infatti ha proposto ieri sera il documento Palazzo Ropa. Mancano solo le firme dei consiglieri, scontati i sì della minoranza e di Antonio Montoro della lista gentile. Incognita sulla maggioranza, il documento verrà discusso nel Consiglio Comunale di dicembre. Insomma, lo psicodramma del centro-destra biellese è tutt'altro che risolto, anzi sono in agguatto, nuovi ed interessanti risvolti dai sapori freudiani. Stiamo attraversando un periodo in cui il benessere generale è diminuito, ma chi ha nel DNA serietà, onestà, non si reca rubare nei supermercati. Con queste parole il sindaco Dino Gentile commenta l'inchiesta sull'impoverimento generale del biellese andato in onda ieri dall'interno del nostro telegiornale. Qualunque situazione sociale causata da un periodo di minor benessere non giustifica il furto. Con queste parole il sindaco di Biella, Dino Gentile, commenta il generale impoverimento del biellese e l'aumento dei furti nei supermercati. Fortunatamente nel biellese la situazione non è drammatica, come in altre città italiane, ma c'è un abbassamento del benessere che molto probabilmente ci accompagnerà nei prossimi anni. Il sindaco sottolinea comunque che chi ha nel DNA la serietà, l'onestà e la dignità non si reca rubare nei supermercati. Per quel che riguarda lo spreco istituzionale, il sindaco ribadisce che il comune assicura i servizi essenziali per i cittadini, nonostante i tagli, soprattutto per i meno ambienti e che comunque anche gli assessori si sono tagliati l'indennità. Per quel che riguarda le luminari, il comune non paga nulla perché sono i commercianti che pagano per gli addobbi natalizi. Il comune mette a disposizione solo un abete che verrà addobbato a spese dell'ASCOM e che quest'anno sarà più piccolo. Per quel che riguarda il lavoro, il problema è a livello nazionale ed è il governo, in concerto con i sindacati, che deve prendere provvedimenti per garantire un futuro ai giovani e ai precari, perché oggi nessuno è al sicuro dal punto di vista lavorativo. E continua la nostra inchiesta sull'impoverimento generale tra le strade di Biella. Ma te l'hai noto un impoverimento generale? Sì, con l'andamento dell'economia, sì. Da cosa l'ho nota? L'ho noto da tutti i negozi che stanno chiudendo. Ormai la gente non compra più o compra soltanto quello che serve, è strettamente necessario. Ma lei ha dei conoscenzi il cui livello di vita si è abbassato in maniera drastica? No, però adesso si fa attenzione a tante cose che prima si trascuravano, magari certe spese che uno prima faceva con più leggerezza, adesso le medita per un po' di tempo. Sì, lo penso dalla mia pelle, lo vivo proprio direttamente. Quindi anche il suo livello di vita si è abbassato? Molto abbassato, molto abbassato. Ci sono delle cose che uno faceva prima, adesso non lo fa più perché devi proprio stringere le cinghie, se no non si può più andare avanti. Eh no, cioè non mi sono mai accorta che rubassero i supermercati, ecco penso che chi lo fa non sia solo per povertà, perché uno può accontentarsi di quello che ha senza bisogno di rubare, no, non lo vedo. Un po' nei supermercati, voi notate questo impoverimento generale? Ma sì, sicuramente c'è un impoverimento generale un po' dappertutto, si vede soprattutto quando vai a fare la spesa nei supermercati perché si concentrano le spese soprattutto nei momenti in cui c'è queste grosse offerte, questi sconti, no? Poi come finisce l'offerta vedi il supermercato dove puoi passeggiarci quasi tranquillamente e quando ritornano ad esserci le nuove offerte si ammassano di nuovo tutti, quindi la gente si è un po' tra virgolette fatta furba, ha imparato ad andare a comprare quando ci sono dei prezzi un pochettino più vantaggiosi. Anche lei nota questo impoverimento generale? Un pochettino generale, sì, proprio un impoverimento generale e soprattutto noi lo notiamo, io sono maestro a Bielmonte, lo notiamo con la clientela che comincia a diradarsi un po'. E lo noto moltissimo perché la gente quando è spinta per sopravvivere a compiere degli atti come rubare penso che si stia proprio toccando il fondo, manca il lavoro, non ci sono alternative e quindi pur di sbarcare il lunario qualcuno è costretto, ahimè, a compiere degli atti che probabilmente nella propria vita non l'avrebbe mai compiuto e questo però porta tutta una serie di conseguenze anche dal punto di vista personale. E parliamo ora di sanità, anche l'ospedale di Biella potrebbe essere interessato dai tagli dei posti letti, al momento sono 843 i posti letti in meno nella rete ospedaliera regionale. Per quanto riguarda il biellese è incognita sulla cifra esatta. Mattia Ferrero La spending review continua a penalizzare fortemente la sanità piemontese, diminuiscono infatti drasticamente i posti letti ospedalieri in regione. Gli effetti dei tagli imposti dall'attuale governo causerà un taglio di 843 posti letto nel solo sistema ospedaliero di tutto il Piemonte. Questo dato è frutto però dalla differenza tra la diminuzione dei posti letto per pazienti post-acuti, circa 1.300, e l'aumento di 450 unità per quanto riguarda i pazienti acuti. Il nuovo saldo porterà quindi a un totale di più di 14.000 posti per acuti e di 3.500 per posti acuti. Prima della riorganizzazione dell'intera rete ospedaliere e della riforma sanitaria regionale, i posti letto erano rispettivamente 13.800 e più di 4.500. Incognita ancora per quanto riguarda la situazione dell'ospedale di Biella, dove oltretutto si attende l'avvio della nuova struttura sanitaria prevista entro un anno. Si è spento Carlo Suolo, 80 anni, biellese di origine, uno dei più importanti batteristi italiani. Fu infatti batterista dell'orchestra della RAI di Milano, ma fu anche a fianco di Slyde Hampton, Dexter Gordon, Bud Freeman, Art Former, Lionel Hampton, Joe Venuti e Chet Baker. Spesso fu ospita del Biella Jazz Club che lo ricorda con grande affetto e ammirazione. Continuiamo per l'area di cultura, da domani fino al 25 novembre al Cantinone sarà in mostra l'opera di Faust Cardinali. Sentiamo l'intervista all'artista di Mattia Ferrero. Evento culturale importante, quello che inizierà domani, sabato 10 novembre al Cantinone della provincia di Biella, con il protagonista Faust Cardinali. Ecco l'artista che esporrà le sue opere qua a Biella. Cardinali, perché il pubblico biellese dovrebbe venire a vedere la sua mostra e soprattutto quali sono i contenuti? Beh, innanzitutto il pubblico biellese, come lei lo chiama, mi conosce e io conosco il pubblico biellese dall'87 perché ho i rapporti di lavoro e di amicizia con diverse persone, con questa cittadina, da quella data lì e quindi il pubblico domani è invitato al Cantinone a vedere una parte del mio lavoro, 26 anni di lavoro sperimentale, d'orificeria, scultura. Possiamo chiamarla arte perché vedrete che declino anche alcuni oggetti che sono quasi importabili in proprio delle piccole sculture con delle riflessioni appunto dal momento che c'è una referenza alla donna perché c'è il progetto donna del 2012 di Biella, ci sarà presente anche la Women's House numero 4 che è una scultura spilla, abbastanza grande, abbastanza importabile, però è rappresentativa di una serie di sculture che ho fatto su questa tematica e le altre tre sono esposte al Museo Civico di Sansepolcro dove attualmente c'è un'antologica della mostra degli ultimi 26 anni di lavoro. Domani alle 17 sarà inaugurata a Candelo la Cantina di Crono all'interno del ricetto la mostra delle tavole realizzate da Massimo Foglia, artista biellese dal titolo Le coccinelle della mia primavera. Il libro con le tavole di Massimo Foglia sarà disponibile in formato pocket sia durante la mostra sia nella sede del Fondo Edo Tempio. La mostra potrà essere visitata fino al 18 novembre con ingresso gratuito. Inserite in un calendario di appuntamenti a favore del progetto Bambini del Fondo Edo Tempio. L'onedì 12 novembre alle 21 infatti verrà proiettato al cinema Verdi di Candelo il film La guerra è dichiarata di Valerì Donzelli. Entrambi gli eventi sono rivolti a conoscere il mondo del bambino malato oncologico terreno sicuramente difficile e doloroso ma ricco e denso di emozioni. E vediamo che cosa ci aspetta per il film di settimana biellese. Un film di settimana ricco di appuntamenti culturali, passeggiate e non solo. Vediamo insieme quali saranno gli appuntamenti del fine settimana nel biellese. A Biella all'interno del Palazzo della Provincia, nello spazio espositivo Il Cantinone, verrà inaugurato alle 17 la mostra La Casa delle Donne, gioielli d'autore di Faust. Al Museo del Territorio, alle 17.30, ci sarà l'inaugurazione invece della mostra fotografica Images. Alle 16.30 il coro Genzianella di Biella sarà ad Europa, presso la Basilica Antica, per cantare la Santa Messa. Spostiamoci a Pettinengo, all'auditorium di Villa Piazzo, dove a partire dalle 18.30, terza stagione di Aria d'Europa, a Villa Piazzo. Cinque concerti conversazione. L'omaggio a Claude Debussy, con il tenore Leonardo De Lisi, Emy Bernecoli al violino e Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte. Domenica, Cossato, alla Riserva Naturale delle Baragge, ritrovo per Fogliage 2012. Dalle ore 10, visita gritata, gratuita. E sempre a Castellengo, all'Ecomuseo del Cossattese delle Baragge, sarà aperto dalle 15.00 alle 17.00 per l'Erbario Autunnale, laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni. A Valle San Nicolao, a partire dalle 14.30, Castagnata, organizzata insieme dal Circolo Amici e dal Gruppo di Volontariato. A Occhieppo Superiore, alla Sala delle Carrozze, all'interno del Municipio, a partire dalle 16.30, concerto lirico degli allievi dell'Associazione Amici della Lirica, Cerisa Ferrari, di Camburzano. Alle 17.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Camburzano, si terrà invece il terzo concerto dell'amicizia, organizzato dal gruppo vocale Voceversa, di Camburzano, con la collaborazione della Proloco, in concomitanza della festa patronale di San Martino. A Zubiena, invece, all'interno della palestra comunale, dalle 10.00 a mezzanotte, il secondo dado è tratto alla convention di giochi da tavolo della Serra, per bambini dagli 8 anni, ragazzi e adulti. Ed apriamo un'ampia pagina di sport, toni aspri, polemici e a volte decisamente violenti, quelli che si sono sentiti alla conferenza stampa, indetta da Pallacanestro a Biella, dopo la riunione dei soci. Nervosismo, polemiche, attacchi più o meno personali, non sono di certo mancati toni forti ed aspri alla conferenza stampa, convocata ieri sera a Lauretana Forum, da Pallacanestro a Biella, in chiusura della seduta societaria, convocata per approvare il bilancio. E pare proprio questo essere il centro dei veleni che attanagliano i soci della squadra di basket, che milita in Serie A. Molti sono i soldi che mancano per la marcata riduzione di abbonamenti ed in seguito per una riveduta composizione societaria. E così si è assistito ad un vero e proprio processo nei confronti di quei tifosi che si permettono di fischiare, anche se la classifica pone la squadra rosso-blu in ultima posizione nella classifica. Le contestazioni che arrivano dagli spalti, insomma, non consentono alla società di sentirsi a proprio agio nella loro casa, anche se, scusate l'intromissione del cronista, ma quello dovrebbe essere il palazzetto dello sport dei biellesi e in virtù della verità, dato solo in concessione a Pallacanestro Biella. Ma ci si rende conto che a volte si allargano troppo i gomiti e si occupa spazi non proprio personali. Bando comunque alle solite, a volte scontate polemiche, che tirano in ballo amministratori, politici, imprenditori che non vogliono metterci i soldi, un interrogativo emerso, riteniamo sia bene evidenziarlo. Ma questo territorio ci tiene veramente ad avere una squadra di basket in serie A? E le risposte potranno essere tante e dovrà essere proprio il territorio con la sua gente a rispondere. Ma la prima risposta che sorge è questa. A che prezzo e con quali benefici? E la situazione economica, ma anche la crisi che colpisce l'intero settore del basket nazionale ed ancora le difficoltà sportive all'interno della squadra di coach e cancellieri, saranno gli argomenti protagonisti della lunga intervista che Marco Fulcheris ha condotto con Massimo Angelico, il presidente. Vediamone una parte dell'intervista integrale che andrà in onda alle 19.45, alle 23.30, in coda ai nostri telegiornali. Con noi Massimo Angelico, presidente di Palacanestro Biella, un messaggio chiaro, ridare entusiasmo, ridare fiducia al territorio e anche i soci per continuare ad amare e stare vicino a questa squadra. Sì, i soci sono pilastro importante di questa società. Noi abbiamo bisogno del sostegno del pubblico, abbiamo bisogno che, come in passato, il pubblico sia veramente il sesto uomo, perché noi abbiamo bisogno, entusiasmo, passione, abbiamo bisogno di sostenere questi ragazzi, sono giovani, hanno ampie possibilità di crescita, si impegnano, si impegnano quotidianamente negli allenamenti. Abbiamo bisogno veramente della città e della vicinanza della gente. Presidente, non le sembra che è da parecchi anni che si fa veramente fatica a riuscire a fare un campionato di A in modo dignitoso e divertendo soprattutto il pubblico, perché lo sport è rivolto anche al pubblico, non solo alle aziende che possono avere un ritorno economico nel settore dello sport. Non le sembra che sarebbe forse meglio fare un campionato inferiore, ma dando più spettacolo? Io direi assolutamente no, facciamo la massima serie, il nostro obiettivo è e rimane quello della massima serie, quindi di non retrocedere. Quest'anno c'è una retrocessione, non dico che sia più facile, però dobbiamo fare un po' la gara sui nostri diretti concorrenti, dobbiamo cercare, come dicevo prima, di sostenere e direi anche, tra l'altro, che abbiamo fatto degli ottimi campionati, intervallati magari da campionati dove ci siamo salvati l'ultima giornata. Chiaro che si tratta di far spettacolo, di creare emozioni e di essere appassionati. Presidente, ci sembra che un po' tutto il settore del basket italiano patisca la crisi non solo economica, ma forse proprio una crisi di un po' di identità. Gli audience televisivi sono calati. Abbiamo proprio quest'anno una classifica molto corta, sono nove le squadre a quattro punti, quindi veramente c'è un grosso divario tra alcune squadre e altre. Questo ci sembra di interpretare una crisi un po' proprio del sistema basket. Ma io più che crisi parlerei di un momento economico diverso. Lo dimostra il fatto magari di un calo degli abbonamenti, un calo delle presenze, non solo nostre, ma in tutte le società di Serie A. Noi ci basiamo comunque, come tutti, come tutti gli sport, sulle sponsorizzazioni, inserzioni, ma anche sul pubblico. È chiaro che lì è un gatto che si morde la coda. Cioè, più ho pubblico, più incasso, più posso spendere perché ho più disponibilità. Se posso spendere di più, posso creare una squadra più competitiva, più spettacolare. E chiaramente il pubblico viene a vederla. Bisogna cercare sempre il punto giusto di equilibrio. Come dicevo prima, non c'è dubbio che comunque stiamo vivendo un momento economico che coinvolge dalla dalla prima società, da quella che è in testa in classifica all'ultima che siamo noi, un momento economico difficile dove la gente veramente fa fatica in un momento anche triste, se vogliamo, a tirare avanti, arrivare alla fine del mese. Per cui è chiaro che le prime cose alle quali uno rinuncia è magari la parte del divertimento. E nel divertimento ci può essere anche una squadra di basket. E questo è tutto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio a tutti.